salve a tutte e tutti nel vostro santo già nell'attuale tutorial vi voglio proporre una pratica soluzione per avviare a tutti quei momenti nei quali avete bisogno di luce e non la potete facilmente reperire quindi bando alle ciance che presenterò un artefato che si chiama illumina con un solo tocco beh eccolo qua e questo non ha bisogno di installare cavi in pratica in pratica era una flick vediamo che la unità si compone la unità si compone di tre led e ci vanno tre batterie quindi in pratica adesso vi faccio vedere come si installano le batterie prendiamo il nostro luce di tre led di tre fuochi troviamo questo ormai sono diventato pratichissimo vediamo un po facciamo una luce qua una luce una batteria una batteria ecco qua poi con un corsetto di plastico che fissa dei perni qua in questo supporti questi tu lo puoi fissare alla parete o in qualsiasi mobile antro così quando hai bisogno di luce ed è molto pratico molto comodo c'è molte ore di funzionamento dipendendo dalle batterie che ci metti dalle pile e per fare una migliore prova luminescenza che all'oscuro per tutte e tutti voi facciamo un test 3 2 1 fiat luce come vedete è bello intenso quindi con questo tutorial di come illuminarvi senza figli senza connessioni elettriche magari in un luogo dove non potete a lungo stare al buio quindi volete avere un'illuminazione magari in corridoi all'aperto dove volete che non potete fare installazioni elettriche portare cavi non avete alimentazione elettrica da nessuna sorgente allora questa è una valida alternativa per esempio corridoi esterni o interni nella vostra casa nel vostro appartamento che rimangono al buio voi dovete passare per esempio vicino alla serratura del portone per vedere le chiavi anche dentro la macchina dove volete perché con questo vi portate la luce dove volete senza figli elettrici magari avete una cassa molto vecchia che non volete rompere le pareti giù per portare degli allacci elettrici e allora con questo fuori dal portone dentro alla parte da dentro dell'appartamento per quando dovete uscire di casa non volete accendere tante luci per non svegliare la gente nella camera che vi alzati di notte al bagno questo vicino al comodino o nel comodino e poi voi potete andare al bagno magari nel corridoio del bagno per andare del bagno della camera e così non svegliate con accendendo le luci più forti no ma spero che vi sia piaciuto questo tutorial e noi ci risentiamo alla prossima grazie di seguirmi ciao dal vostro sant'inchan luce senza figli e senza installazioni ciao grazie 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 grazie